Pensare che a Taranto c'è una mortalità infantile del 30% superiore rispetto alla media nazionale la dice lunga. Forse Sua Eccellenza è mancata, e parlo in senso lato, ognuno ovviamente per la propria competenza, è mancata forse, c'è un vuoto della classe politica? Evidentemente se siamo a questo punto dobbiamo riconoscere che una maggiore abilità, una maggiore capacità di far squadra, una maggiore capacità di conduzione della cosa pubblica e dell'intervento avrebbe sicuramente aiutato. Però noi, sin da quando, dico come Arcidioce, io ho fatto venire qui due ministri, ho fatto venire il ministro Orlando che a suo tempo era dell'ambiente, la ministra della Sanità. La Lorenzin. Sì, e poi abbiamo messo insieme anche persone del mondo dell'ambientalismo, abbiamo invitato tutti i rappresentanti, rappresentanti dell'azienda, dell'ILVA, e poi i sindacati, e poi la magistratura. Insomma, messi insieme. Poi dopo ho visto che questo era un compito di supplenza, il compito che chi deve farlo lo deve fare. Io ricordo con piacere, Sua Eccellenza, quando si insediò il ministro Orlando, se non erro proprio, e all'epoca fu il ministro Orlando, se era all'ambiente, prima che ora non passasse in parola giustizia, lei in 4 e 4-8 era già a Roma per incontrarlo, per ovviamente manifestare la condizione, la sofferenza di Taranto, al che io esclamai, così simpaticamente, ma è una battuta, ma in effetti ha un fondo grosso di verità, dico, ma guardate un po', un arcivescovo che deve svolgere un ruolo, svolge un ruolo encomiabile e che invece la politica avrebbe dovuto fare. Però, dico, meno male, grazie a Dio che abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Santoro. Beh, appunto, ho fatto quell'intervento, poi ne ho fatti anche altri, adesso è chiaro che bisogna, la mia funzione è proprio quella di stimolare e di provocare anche il potere politico a che faccia il suo compito e non a sostituirmi al potere, perché sono responsabilità diverse ed è giusto che ciascuno abbia la sua responsabilità precisa. Quello che io vedo in questo momento è che la rinascita deve precedere la politica. La rinascita è proprio una rinascita da parte della città, di realtà che si mettono insieme e che vogliono fare una proposta positiva. La politica dovrà poi svolgere il suo compito, che è imprescindibile.